Queste le considerazioni dello chef stellato Gennaro Esposito a margine dell'evento Nutrire il Futuro. Io penso che il futuro sarà sempre di più una cucina intelligente, contemporanea, che guarderà la realtà che la circonda e sarà sempre più culturalmente ricca ed espressiva di contenuti innovativi. Sicuramente l'innovazione non potrà mai essere qualcosa che non contemplerà il gusto, il sapore, le consistenze, i prodotti, la terra, le radici, tutte quelle cose belle che può raggruppare la cucina. Il cibo per questo tipo di dinamica è strettamente legato alla realtà culturale dove si produce e soprattutto a quella economica. Diciamo che forse una delle spiegazioni plausibili è che il brand come concetto nel paese di cultura anglosassone ha una capacità di penetrazione nel mercato molto diversa che in Italia e soprattutto a sud. A sud in Italia in generale ci piace trovare il ristoratore nel ristorante, ci piace conoscere il salumaio che ci taglia la fetta di prosciutto, ci piace avere un rapporto più diretto e più stretto con quello che è l'attore principale. Invece all'estero funziona molto di più il brand, quindi uno chef bravo, capace, può replicare la sua attività in tanti altri posti e replicando le sue ricette. Grazie a tutti.